Il Paese dei Balocchi Sarai il talento, il filo conduttore della diciannovesima edizione di Il Paese dei Balocchi, l'evento dedicato ai più piccoli che si svolge ogni anno nel Parco Bambini del Mondo, nel quartiere di Bellocchi a Fano. Questa mattina è stato presentato il programma delle quattro giornate, 17, 18, 19 e 20 agosto. Un programma ricco tra eventi collaterali, laboratori, musica, buon cibo, divertimento, insieme alle storiche attrazioni della manifestazione che rendono omaggio alle avventure di Pinocchio, la balena di 11 metri, la casa della fata turchina, il campo dei miracoli, l'ucignolo e il parco di Mangiafuoco. Taglio del nastro il 17 di agosto con l'ospite d'eccezione. Abbiamo come sindaco di quest'anno, di questa edizione, lo riconosciamo un talento del suo genere, Pino Insegno, che verrà il giorno 17, preceduto dall'orchestra mosaico, che è l'orchestra giovanile del nostro territorio. Quindi questo è un po' il battesimo e il giorno iniziale. Spiegare che il tema di quest'anno è il talento, quindi riconoscere i propri talenti, riconoscere i talenti dei nostri figli, darsi, diciamo, superare la quotidianità con i talenti e con le nostre passioni. Parliamo anche di cose importanti e abbiamo degli appuntamenti significativi sia il giovedì che il venerdì che il sábado. Come sempre, un occhio di riguardo è stato dedicato anche alla cucina. Noi poniamo molta attenzione, tanto da costituire anche all'interno del Paese dei Balocchi, un piccolo spazio slurp dove si parlerà di alimentazione. Però anche il cibo che si può mangiare nel Paese dei Balocchi è del cibo tradizionale, ma soprattutto abbiamo anche, per quest'anno, ed è la prima manifestazione che l'ha portato in una realtà, diciamo di manifestazione, l'Associazione Italiana Cegliachia, che quest'anno verrà col suo spazio. L'evento poi si concluderà domenica 20 con lo spettacolo serale, unico nel suo genere. Il must del Paese dei Balocchi è lo spettacolo finale che si svolge alle ore 23 della domenica, è organizzato da Alcmena Studio, quindi veramente uno spettacolo pirotecnico musicale che ormai molti conoscono e apprezzano e quindi vengono al Paese dei Balocchi anche per questo spettacolo finale. Per conoscere il programma completo delle quattro giornate è possibile consultare il sito bellocchi.org. È una bellissima festa, che è stata un'idea geniale, che sa mettere insieme divertimento, sa mettere insieme laboratori, sa mettere insieme spettacolo, sa mettere insieme anche valori e messaggi educativi importanti. È un evento che è per tutti, parte dai più piccoli ma anche per i più grandi. Quindi veramente un grazie all'organizzazione Paese dei Balocchi, perché sono il vero valore aggiunto, il vero patrimonio di questo evento, della sua caratterità e dei suoi talenti. Grazie a tutti.